Buonasera gentili amici alla visione di Telecaileo, è l'ultimo appuntamento per quanto riguarda i match amichevoli in questa fase della stagione 2016-2017. Laterana affronta e chiude il ritiro con un amichevole con la formazione dell'Atletico Orte, la formazione allenata da Alessandro Cavalli che nel corso del campionato scorso ha conseguito la promozione nel campionato di eccellenza. I partiti in questo istante, quindi le due formazioni si affronteranno. Laterana intanto che attacca, palla in mezzo, la divisione di Filabbi, palla ancora in area di rigore. La battuta di Battista, palla in mezzo, un colpo di testa, la palla va terminata, le parti di Furlan che mette in fondo alla rete e quindi in vantaggio la formazione rosso-verde con il gol di Furlan al primo minuto di gioco. Palla per Zampa che dà in approfondità per Antonino Lagumina il tiro, la respinta di Paolucci, il pallone poi viene allontanato direttamente da Pernazza ma lo mette sui piedi di Lagumina il tiro di Furlan. La parata ancora di Paolucci, la palla per Battista, il tiro deviato in angolo. Sale anche Meccariello per dare più centimetri in area di rigore avversaria, l'uscita di Paolucci e poi c'è il secondo gol della formazione rosso-verde. Intanto c'è l'affondo del greco Koukomis, palla per Lagumina, evita il fallo di fondo e poi scambia con Furlan. Furlan salta proprio bagnato e va all'attiro, questa volta però il traiettore del pallone è alta. è Meccariello che rimedia e serve ancora per Petricione. Sull'auto di sinistra appoggia in avanti per Palumbo, cambia gioco Palumbo per Battista, fa fuori un numero tre e poi va all'attiro dal limite la parata di Mattia Paolucci. Meccariello verticalizza per Furlan, Furlan avanza centralmente da per Lagumina, Antonino Lagumina la parata di Mattia Paolucci. Intanto è Petricione che scambia con Palumbo, poi c'è Battista per Zanon, palla al centro. Ci arriva molto bene il numero quattro Rampiconi in ritiro qui a Roccaporena, anzi oggi chiude il suo periodo di stagione. Palla per Furlan, Furlan per Zampa il tiro, palla sul fondo. Nei vari campionati dilettantistici ha disputato, palla in mezzo intanto per Bagnato, all'indietro per Gentili. Il tiro di Gentili, la parata di Mazzoni, il pallone però va di Giulie, poi per Nazza questa volta hanno la meglio giocatore rosso-verdi perché il controllo non è più preciso. Palla per Lagumina che si presenta tu per tu con Paolucci e realizza il terzo gol. Ed è Palucci che arriva per primo sul pallone e lo mette, sta per mettere in avanti. Lo raccoglie ora dalle terre per andare ad effettuare il rilancio. L'estremo difensore che, lo ricordo, per tanti anni è stato l'estremo difensore giovanissimo dello sport interno, campionato di serie D. Lancio in profondità ancora per Furlan, Furlan c'è lo scavino, il pallonetto è il 4-0. Il primo della ripresa, quindi l'angolo, è per la formazione rosso-verde. A battere va proprio Koukomis. Vi dicevamo proprio domenica sera di aver visto un giocatore dai piedi buoni. Diciamo che questo lo sta un po' confermando. Intanto il suo angolo un pallone colpito di testa da Cason, anzi da Valiant, sul fondo il pallone. Intanto riceve anche l'incoraggiamento di Panucci e Tascone, nonostante la giocata non è felice. Sbaglia il portiere dell'Atletico Orte, regala palla ad Avenatti che entra in area di rigore e batte il portiere della formazione dell'Atletico Orte. Siamo sul 5-0 in gol Avenatti al nono minuto del secondo tempo. Anche a centrocampo l'Atletico Orte è una squadra che ha elementi contati. È vero che c'è Coppola che è infortunato, ma insomma a livello di organico i centrocampisti mancano e come. Intanto è Avenatti che si libera e poi va alla conclusione di sinistro. Palla a lato dello specchio della porta, difesa da Papi. Sicuramente Panucci si aspetta che qualche arrivo possa esserci. Ora bisognerà vedere se effettivamente Larini riuscirà ad accontentarlo, riuscirà a rendere questa squadra un po' più competitiva perché al momento, insomma, intanto Palumbo per Avenatti, il tiro di Avenatti che evita l'intervento del portiere in uscita e realizza il sesto gol. Cason, lo scambio è con Flavioni, poi Avenatti che dà per Palumbo. Pallone è liftato al centro, Dugansic non riesce in un primo tempo a mettere dentro per la respinta di Papi. Poi sul pallone torna direttamente Dugansic e realizza il settimo gol. Pallone è recuperato dalla Ternana, Tascone per Dugansic, Flavioni arriva dalle retrovie, Flavioni per Palumbo, lascia sull'apposto del numero 14, entra nel rigore Palumbo, palla in mezzo per Dugansic che realizza l'ottavo gol per la formazione all'osso verde. Quindi ancora Dugansic in gol. Il rafforzamento della squadra, lo ripetiamo per l'ennesima volta, ci auguriamo che il direttore sportivo Larini operi da questo punto di vista e ora Avenatti, dopo un buon controllo, mette alle spalle del portiere Papi e quindi c'è il nono gol della Ternana per Avenatti. Al di là di quelle che possano essere le situazioni, è bene che tutti si convincano, società in primis, che questa è una squadra che deve essere rinforzata, al di là di quelle che possono essere i responsi delle partite amichevole e i responsi della partita di Coppa Italia. La stagione ufficiale sta per iniziare, quindi deve essere adeguatamente rinforzata questa squadra per non correre rischi nel prossimo campionato di Serie B.